Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Gabriele Guzzi, economista, scrittore, professore di storia dell'economia all'Università di Cassino, ex consulente per l'economia a Palazzo Chigi. Fa parte dei gruppi Darsi Paci fondati da Marco Guzzi, che conoscete bene perché abbiamo già avuto ospite qui con noi, e anche del Movimento Giovanile l'Indispensabile. Gabriele, prima di tutto, grazie mille di aver accettato il nostro invito e di essere qui con noi. Ciao Alessandro, grazie a voi per l'invito. Allora, noi abbiamo invitato Gabriele, anche perché ha recentemente scritto un articolo sull'INES, dal titolo L'euro è la moneta del nostro declino, possiamo uscirne, che ha suscitato numerosissime polemiche, che poi insomma magari ci racconterai, anche perché come scrivi giustamente a nostro avviso nell'articolo, l'euro è ancora un po' un argomento tabù, ed è quindi ancora purtroppo difficile avere una discussione franca sui vantaggi e sugli svantaggi che questa moneta ha avuto e continua ad avere per la nostra economia, e quindi tutte le volte che si cerca di approcciare questo argomento in maniera un pochino più oggettiva, analitica, come hai fatto te, si va spesso incontro poi a polemiche o insulti più o meno velati. E invece diciamo il tuo appunto è un articolo scritto da una prospettiva analitica, scientifica, di economia politica, e in cui affronti sostanzialmente tre punti fondamentali. Il primo in cui cerchi di spiegare appunto quali sono a tuo avviso i difetti strutturali di questa moneta, e alla luce di questi difetti quali sono state le conseguenze per l'economia del nostro paese. Il secondo punto è quello in cui cerchi di comprendere il ruolo che ha avuto la moneta unica nella crisi istituzionale italiana appunto nel momento della sua introduzione, e poi infine cerchi di esaminare e suggerire possibili alternative. Ecco, partirei appunto dal, partirei quindi proprio dal primo aspetto, Gabriele, ti chiederei quali sono a tuo avviso i difetti strutturali dell'euro e quali sono state le conseguenze che ha avuto nella nostra economia, per la nostra economia. Sì, ma dici bene, il senso di quell'articolo è proprio di demitizzare l'euro che non è solo una moneta, ma è un metodo di governo, è direi una visione politica che ha profondamente cambiato la società italiana, l'economia italiana, la democrazia italiana e a mio avviso lo ha fatto in peggio. Quindi il primo, cerchiamo l'obiettivo fondamentale di quell'articolo è proprio rimettere al centro del dibattito il punto più importante dei nostri tempi da un punto di vista economico, almeno uno dei più importanti. E cioè come le politiche europee, in particolare l'Unione Monetaria, abbia rappresentato un ostacolo importante allo sviluppo economico italiano e anche all'efficacia democratica delle nostre istituzioni. Ma chiaramente il dibattito è molto ampio e la letteratura anche. Cerchiamo di dire qualcosa in estrema sintesi. Diciamo che quando si decide di creare un'unione monetaria, quindi più regioni, in questo caso più stati, decidono di adottare la stessa valuta, emergono delle problematiche. Perché chiaramente avere una moneta unica può avere dei vantaggi, ha dei vantaggi oggettivi, per esempio i costi di transazione si azzerano oppure diminuiscono sostanzialmente, le incertezze legate alle fluttuazioni dei cambi delle valute diminuiscono, si azzerano, c'è un incentivo potenziale al commercio all'interno di quest'area monetaria. Ma allo stesso tempo si creano anche profondi aspetti negativi. Perché? Perché queste valute sostanzialmente rinunciano a due importanti leve di politica monetaria. Cioè il tasso di cambio, che all'interno di quest'area monetaria si annulla perché appunto viene adottata una sola valuta per tutte queste regioni, per tutti questi stati, e poi il tasso di interesse, che è ad oggi lo strumento fondamentale per l'applicazione della politica monetaria ordinaria, quindi diciamo prima degli strumenti cosiddetti non convenzionali come il quantitative easing, quindi questi stati, in questo caso, europei, rinunciano a poter stabilire il tasso di interesse che dal loro punto di vista meglio si adegua alle necessità che la propria economia sta vivendo, quindi se sta in crisi in un certo senso si dovrebbe diminuire il tasso di interesse, se si sta surriscaldando va ovviamente aumentato. Quindi quando si adotta una stessa valuta, la teoria economica da almeno 60 anni ha individuato le condizioni affinché quest'area monetaria sia ottimale. Cioè quali sono i criteri per cui quest'area monetaria, una qualsiasi area monetaria sia ottimale e che quindi sostanzialmente i vantaggi superino gli svantaggi? Ora c'è stata una lunga discussione su quali siano questi criteri, c'è un ampio consenso sul fatto che una delle più importanti condizioni è che ci siano importanti trasferimenti fiscali all'interno di quest'area monetaria. Quindi le aree possiamo dire più svantaggiate, meno produttive, proprio perché rinunciano alla leva del cambio, quindi rinunciano a uno strumento di competitività rispetto ai paesi più produttivi, ricevono da quest'ultimi ingenti trasferimenti fiscali, non solo in termini di welfare ma anche ad esempio di politica industriale. Ora l'Europa la conosciamo, facciamo l'esempio dell'Italia, nell'unità d'Italia che è stato come dire un fenomeno abbastanza simile per certi versi. Qualunque unione politica che poi ha implicato un'unione economica e poi un'unione monetaria ha vissuto le stesse problematiche. Ora il Sud Italia, diciamo, avendo la stessa valuta della Lombardia, la Calabria avendo la stessa valuta della Lombardia affronta le stesse problematiche, cioè ha la stessa valuta di una regione estremamente più produttiva per dei motivi che si potrebbero indagare ma così è. Allora dopo la seconda guerra mondiale, diciamo dagli anni 50 si è creato lo strumento di sviluppo straordinario del mezzogiorno, una cassa del mezzogiorno che ha implicato grandi trasferimenti da parte del governo centrale italiano al meridione in termini di politica industriale, di sviluppo, quindi non solo di assistenza e questo ha fatto diminuire le divergenze. Quindi un'unione monetaria, in quel caso la Lira, in cui appunto i trasferimenti fiscali industriali di know-how hanno contribuito a diminuire le divergenze economiche. In Europa questo non è avvenuto, non avviene e non avverrà, credo, nei prossimi anni, a meno che non succeda la terza guerra mondiale e più che altro un evento storico dirompente che non so se augurarmi, anzi direi proprio di no. E quindi gli stati in azione hanno rinunciato alla politica monetaria nazionale ma non c'è stato un salto politico, un salto fiscale, un salto federativo che prevedesse appunto trasferimenti fiscali consistenti dai paesi più produttivi e dai paesi meno produttivi. Questo perché? Anche perché oramai l'area euro è composta da 20 paesi, l'Unione Europea da 27 paesi che non hanno alcun collante politico culturale, alcun collante linguistico, non c'è nessuna solidarietà, non c'è nessun popolo, quindi io sono anche per abolire le elezioni europee del Parlamento perché non è un Parlamento quello, quindi non ci dovrebbero essere le elezioni europee, è come dire una grande messa in scena per legittimare le istituzioni europee, ma non c'è un Parlamento perché non c'è uno Stato, non c'è un popolo, non c'è una Costituzione, quindi giustamente io come dire su questo la mia non è una critica naif alla Germania, all'Olanda, cioè è così, non è uno Stato e quindi non ci devono stare sostanzialmente trasferimenti fiscali perché il motto No Taxation Without Representation della rivoluzione americana continua a valere. Chiaramente Italia in realtà era il paese che meno si adeguava poi all'impostazione generale dell'euro che oltre a questo aspetto in cui appunto gli Stati hanno rinunciato a una politica monetaria e hanno rinunciato a favore di un'istituzione, cioè la Banca Centrale Europea, che non si interfaccia con nessun governo, con nessun Parlamento, quindi è una grande struttura tecnocratica alla fine, diventa l'area euro e l'Unione Europea perché l'istituzione più importante che può far crollare interi paesi, l'intero progetto è un'istituzione svuotata di qualunque legittimità democratica che vive di interessi occulti, di conflitti tra interessi occulti e poteri forti, come dice Stiglitz, ma è sostanzialmente il cardine politico di tutta l'istituzione. Ecco l'Italia in questo assetto era quel paese che si adeguava di meno, si potrebbe spiegare il perché e sostanzialmente l'impostazione cosiddetta ordo liberale dei trattati europei e della Germania ha profondamente danneggiato la nostra economia, facendoci rinunciare appunto alla fluttuazione del cambio, che era stato un importante strumento di recupero della competitività dovuto anche ad azioni non cooperative da parte della Germania, cioè spesso le nostre pratiche, le cosiddette svalutazioni della lira erano pratiche difensive rispetto a politiche deflattive della Germania oppure a politiche iperrestrittive monetarie della Bundesbank che magari teneva i salari forzatamente bassi, quindi non è che erano pratiche per aggirare le regole del mercato, erano spesso strumenti di difesa rispetto alla Germania in particolare che metteva in atto politiche neomercantilistiche e di cannibalizzazione del mercato europeo. Ha rinunciato al suo modello di rapporti sociali, come a dire che non è perfetto, ma era quello, cioè sostanzialmente dopo la fine di Bretton Woods una forte conflittualità sociale, aumento dei salari monetari interni che scaricavano sul tasso di cambio il recupero della competitività e quindi sostanzialmente i salari alla fine continuavano a crescere, si scaricava sul valore della lira tutte queste tensioni interne. L'euro, prima lo SME, cioè il sistema monetario europeo e poi l'euro è stato un modo per irrigidire la nostra economia, ma poi rimetterci sono stati salari, sono stati, è stata la produttività, è stato lo sviluppo economico. Quindi un'analisi oggettiva fin dall'inizio della fondazione dell'euro, quindi prima che vi spiegasse i suoi effetti, avrebbe dovuto far concludere alle nostre classi dirigenti che l'euro era un progetto fallimentare per l'Italia. chiaro, chiarissimo. E quindi diciamo che fu anche una decisione politica, sottolinei nel tuo articolo, nonostante la scienza economica l'avrebbe potuta in qualche modo scoraggiare frutto di una determinata atmosfera politica e culturale di quel momento. Infatti ti aggiungo questa considerazione ad una tua citazione dell'articolo, ti scrivi l'Italia non aderì all'euro tanto per una ragione economica quanto per una scelta geopolitica, agganciarsi al treno del vincolo esterno europeo per non rimanere isolata. E poi aggiunge anche un altro elemento, secondo me molto interessante, di considerazione culturale, in cui scrivi l'unificazione europea divenne la nuova narrazione sostitutiva, il sol dell'avvenire verso cui convogliare quelle attese millenaristiche che caratterizzavano entrambe le tradizioni e qui fa riferimento diciamo alla tradizione cristiano-cattolica della DC e quella comunista del Partito Comunista, perché effettivamente c'è un qualcosa di millenaristico nel modo in cui centrodestra e centrosinistra, con i vari intellettuali al seguito, aggiungo io, si approcciano all'Unione Europea. E questa considerazione la trovo particolarmente interessante proprio perché è un po' l'atmosfera culturale in cui viviamo anche oggi e che rende poi anche così difficile parlare liberamente di questi temi, no? Assolutamente. I più grandi economisti che si occupavano di economia internazionale, di economia monetaria, erano piuttosto d'accordo nel ritenere l'euro un progetto fallimentare fin dall'inizio. Come spiego nel mio articolo, era un pensiero trasversale alle scuole di pensiero economico. Dornbusch, ma anche Augusto Graziani in Italia, ma anche Milton Friedman, cioè i marxisti, parte dei marxisti, parte degli israffiani, dei neoclassici, eccetera, eccetera, dei post-kenesiani. Quindi, soprattutto nell'ambito americano, Krugman, Stiglitz, erano assolutamente, come dire, certi che l'euro non avrebbe svolto un buon lavoro, proprio per quel motivo che abbiamo detto prima, perché perdendo la leva del cambio e senza solidarità fiscali, fiscali hai sottratto all'economia nazionale uno strumento imprescindibile per il recupero della competitività, le hai irrigidite, le hai estremamente irrigidite e hai sottratto sovranità monetaria agli Stati, cioè hai tolto il potere di emissione della valuta agli Stati, lo hai dato a un'istituzione tecnocratica, ma che non si interfaccia con nessun governo. Ora, per l'Italia è il caso, come dire, c'è un aggravante, perché sia fuori d'Italia e d'Europa, ma anche dentro l'Europa, ci veniva detto, ma insomma, ma che è stata a fare? Ma avete capito cosa stiamo facendo? Abbiamo capito che non potete fare più deficit, non potete più fare aiuti di Stato, cioè non potete più fare politica industriale, non potete più permettere alla lira di svalutarsi, capite che state praticamente trasformando l'economia, la costituzione materiale del vostro paese, come diceva Guido Carli, ne siete consapevoli? In realtà non eravamo consapevoli, non era consapevole il popolo, non erano consapevoli le classi politiche, prevalentemente. Una piccola cerchia di alta burocrazia e di alta intelligenza italiana ne era consapevole ed era anche favorevole, appunto Guido Carli, Padua Schioppa, Ciampi, Draghi, Prodi, insomma tutto quel filone dei post-andriattiani era contento, diciamo, di questa trasformazione strutturale della conformazione economica del nostro paese. A tutti tutti noi, tutto il popolo italiano, ma anche gran parte della politica era del tutto ignara, noi entravamo in Europa, appunto, come dico, per un motivo di politica estera. Così va Andreotti a firmare Maastricht insieme a Guido Carli, con un'idea sostanzialmente di agganciarci ad una nuova avventura di politica internazionale, di alleanza europea, ma senza una chiara consapevolezza sulla gravità sociale ed economica che l'euro avrebbe comportato per il nostro paese. Allora io qui cerco di spiegare nell'articolo perché le classi politiche italiane hanno sposato in maniera così fideistica, così entusiasta, così religiosa il progetto dell'euro e dell'Unione Europea e tuttora è così. Io, come dire, sono grato all'IMES per aver raccolto questo pezzo e per, anzi, aver incentivato anche un dibattito, ma non è comune. Come dico spesso, è più facile attaccare la Madonna che criticare l'euro oggi in Italia. È veramente un totem religioso, è una bestemmia, come se tu poi volessi riportare l'Italia alla pre-storia, a una situazione economica da terzo mondo, ci vuoi far collassare nel disastro, quando comunque ora, se dobbiamo stare nel loro stesso livello di semplificazione, mi permetto di dire che prima dell'euro eravamo la quinta potenza economica mondiale, i salari reali crescevano, il sud cresceva di più del nord, quindi si diminuiva la divergenza tra nord e sud e ora invece i salari sono fermi, la produttività è ferma, anzi, abbiamo avuto le inflazioni a due cifre e i salari reali sono diminuiti nell'ultimo anno, insomma, tutto ciò che dovevamo avere, subire fuori dall'euro, l'abbiamo già subito dentro l'euro, per cui non capisco questo allarmismo paranoico. Allora, i motivi che io ho individuato sono sostanzialmente tre. E unisco l'elemento, potremmo dire, materiale a quello simbolico politico, quello teologico politico, cioè quello materiale esiste, cioè nel senso l'euro è stato un grande comunque riequilibrio dei rapporti di forza del capitalismo italiano, soprattutto a partire dall'austerità del 2011 sono stati compressi i salari, l'austerità ha prodotto un deficit di domanda che ha prodotto disoccupazione e quindi il grande capitale ha chiaramente aumentato la sua potenza, la sua forza nei rapporti sociali con il mondo del lavoro, perché poteva richiedere e ottenere salari più bassi, diritti più bassi e quindi aumentare la quota dei profitti, cioè l'ammontare dei profitti sul reddito e quindi sostanzialmente ha aumentato il potere. Però quello che io ho notato, e non solo io, è che sostanzialmente questo guadagno ha coinvolto una quota assolutamente minoritaria del capitalismo italiano. Gran parte delle industrie, delle imprese nel nostro paese sono state danneggiate dall'euro, sono state danneggiate da questa entrata nel mercato unico con una moneta unica senza un sostegno da parte dello Stato in termini di domanda e senza appunto avere il tasso di cambio ad esempio per recuperare competitività, per esempio dopo la crisi del 2011. Tuttavia però sia questa parte del centro imprenditoriale sia i suoi rappresentanti politici hanno continuato a sostenere l'euro e in parte continuano a sostenerlo. Quindi c'è un'eccedenza, io l'ho chiamata un'eccedenza ideologica nel sostegno all'euro che va anche al di là delle mere ragioni economicistiche, cioè di guadagno economico e di potere economico. E quindi appunto io aggiungo la motivazione ideologico-politica religiosa dell'euro e questo come a dire si può capire andando alle radici storiche dell'introduzione dell'euro. Appunto come hai detto tu l'euro viene pensato negli anni 80 in un clima di fine della storia, in un clima di trionfo del neoliberalismo, nel collasso in Italia del sistema partitico che aveva guidato la Repubblica nei 50 anni precedenti e le due grandi tradizioni partitiche, cioè la democrazia cristiana e il partito comunista, la prima schiacciata da una crisi di legittimità e anche da una crisi giudiziaria, cioè Tangentopoli finisce nella vergogna, nell'umiliazione di una grande tradizione partitica e politica dell'europea e il partito comunista anche lì schiacciato dal crollo del muro, dalla fine, dal collasso dell'Unione Sovietica e senza più punti di riferimento. Allora entrambe queste tradizioni erano guidate da una fortissima spinta escatologico messianica, rivoluzionaria, appunto fare la società socialista, portare il regno dei cieli sulla terra, fare l'uomo nuovo, insomma la pace tra i popoli, tutte cose giustissime e bellissime. Insomma erano due tradizioni politiche certamente animate da una forte tensione ideale e di cambiamento della realtà e questo è cosa buona e giusta. Quando però sono collassate le loro tradizioni hanno come visto nell'euro un modo per risolvere la propria crisi di identità senza doversi interrogare sul proprio passato e cioè sui motivi del fallimento della loro storia. È stato un modo per ridarsi una legittimità dello stesso livello di quella precedente, cioè appunto di grande trasformazione rivoluzionaria e scatologica della società italiana e quindi appunto l'Europa era facciamo l'Europa, facciamo la grande chiesa, facciamo la grande società del terzo millennio, di pace, di unione, lasciamo da perdere l'italietta vecchia, l'italietta della corruzione. È come un passaggio pasquale, la vedo così, come una transustanziazione in salto ontologico dall'italianità all'europeità, facciamo l'uomo europeo e la donna europea, che bello, tutti uniti, possiamo viaggiare. Insomma c'era proprio una visione escatologica di salto di coscienza e di specie quasi dell'italiano e questo chiaramente si univa a una profonda svalutazione della propria storia e del proprio popolo che veniva appunto considerato all'epoca soprattutto brutto, sporco e cattivo, incapace di darsi un ordine interno che appunto doveva ricevere dall'esterno. Quindi questa è la seconda motivazione, evidente vi sembra, i più grandi sostenitori dell'euro sono stati i post comunisti e i post democratici cristiani, mostri da questo afflato religioso nei confronti dell'euro. Come dico con una battuta, hanno spostato la chiesa da Mosca a Bruxelles, hanno spostato, perdendo qualunque discorso razionale e realistico, come a dire io sono un grande idealista e vorrei essere anche visionario nella capacità di interpretare la politica, perché la politica vive di respiri grandi, vive di sogni grandi, non vive di piccole ambizioni e di amministrazione. A questo non mi permette di obliterare la dimensione della realtà, dell'oggettività, perché sennò divento uno che mistifica la realtà in nome di falsi dei, di idolatrie, di mostri, alla fine di mostri, dell'orrore che mi imperiscono di vedere la realtà, mi annebbiano la realtà. Per cui qui invece c'è stato un gioco delle parti, c'è stato un trucco, un trucco. La totale negazione della verità, della realtà è l'assunzione di un punto di vista esterno, estraneo alla nostra storia, anzi ostile alla nostra identità e ai nostri interessi nazionali, in nome sostanzialmente appunto di una moneta. In nome di una moneta. Allora qui il discorso è grave. Il terzo è quello del vincolo esterno che già abbiamo detto, cioè una piccola cerchia della burocrazia che voleva invece coscientemente, direi, su questi sì, che erano più coerenti da un certo punto di vista, volevano ottenere ciò che poi abbiamo ottenuto, cioè la modifica sostanziale delle istituzioni democratiche del Gaglia. E senti, e infine nel tuo articolo proponi tre possibili soluzioni, o meglio, in verità proponi quattro alternative, una di queste però non è una soluzione perché è sostanzialmente continuare nel nostro lento ma inesorabile declino senza far nulla e quindi questa è la prima alternativa, quindi continuare sostanzialmente con questo stato di cose, continuare a non parlare nemmeno dell'euro, trattarlo come un tabù religioso e aspettare, diciamo, che nei prossimi decenni l'economia italiana peggiori, peggiori, fino praticamente forse alla totale scomparsa. E questa, diciamo, è la prima alternativa. Poi offri tre soluzioni. La prima è quella appunto di, cioè, suggerici che l'Italia potrebbe farsi promotrice di un'unione fiscale a livello comunitario, usando appunto poi, diciamo, il suo peso specifico che continua ad avere in sede di contrattazione. La seconda via, la seconda possibile soluzione che proponi invece è quello di farci promotori di una riforma radicale dell'unione monetaria e quindi scrivi l'euro si potrebbe trasformare da moneta unica a moneta comune, le valute nazionali verrebbero ripristinate e l'euro diverrebbe una moneta per regolare i pagamenti tra i paesi europei. E la terza, invece, quella che immagino avrà suscitato anche più polemiche, è quella di uscire dall'euro, quindi un'uscita unilaterale dell'Italia dall'euro. Brevemente ci potresti spiegare queste tre soluzioni? Sì, prima di entrare nel tecnico, ciò che vorrei segnalare è l'esistenza di un bivio, che si aggrava dalla politica estera attualmente adottata dall'Unione Europea. Ho scritto in un articolo sulla Fionda qualche mese fa che la marginalizzazione geopolitica che viviamo oggi è causata anche dalla marginalizzazione economica decisa a Maastricht, quindi sono in realtà molto più collegate le questioni. Cioè noi ora viviamo in uno stato di guerra, di rischio, di conflitto mondiale e le classi dirigenti europee sono evidentemente corrotte, sono corrotte nel senso, non solo economico, ma sicuramente politico e morale. L'abbiamo visto nell'ultimo consiglio, qualcosa di vergognoso, qualcosa che neanche dieci anni fa sarebbe stato inconcepibile e inaccettabile da un dibattito dalle opinioni pubbliche europee e sicuramente quella italiana. Invece viene assolutamente lasciato passare tutto e quindi è una situazione paradossale, allarmante, pericolosa, molto pericolosa. Io, come dire, queste classi dirigenti europei sono dell'idea che andranno punite democraticamente e politicamente. Don Pasolini parlava di un processo e io spero che arriveremo anche a questo, un processo magari non giudiziario ma politico e insomma queste classi vanno fermate perlomeno, queste persone vanno fermate perché sono molto pericolose e sono mosse dalla stessa follia cieca che ha guidato la politica economica europea degli ultimi almeno vent'anni. Quindi l'esistenza di un bivio, o qua facciamo qualcosa, o qua facciamo qualcosa, cioè facciamo l'Europa come realtà politica vera che non è quella attuale perché non possiamo avere come rappresentanti la von der Leyen, la Lagarde, la Mezzola, cioè persone squallide, persone squallide, totalmente squalificate, che non hanno alcuna legittimità democratica, persone che andrebbero portate via a studiare, cioè lasciamo queste persone per 15-20 anni a studiare, proprio i classici direi, mettiamole a studiare che sono Shakespeare, Dante, Platone e poi le facciamo rientrare in società, ma non possono guidare un continente sull'urlo di un conflitto mondiale o decidere sulla politica economica di 300 milioni di persone, non sono in grado. Quindi o facciamo un salto politico, cioè cambiamo totalmente aria, cambiamo totalmente proprio situazione, clima emotivo di fondo e istituzioni politiche, oppure facciamo un passo indietro. Oppure facciamo un passo indietro. E magari per fare un passo indietro può essere la precondizione per fare un passo avanti nel futuro, non è che l'uscita vorrebbe dire rinchiuderci in un sovranismo che non vuol dire niente come concetto, vuol dire semplicemente però ritornare ad una democrazia di fatto, in cui la moneta la possiamo controllare noi, in cui la politica economica la decide il Parlamento, la decide il Governo, non la decidono funzionari gelidi, in uffici gelidi, con facce gelide che nessuno conosce e che nessuno può valutare o giudicare, influenzati dai peggiori lobbisti che esistono nel mondo, perché a Bruxelles ci sono solo lobbisti, praticamente. Ecco, questo non va bene. Chiaramente io penso che l'unione un fiscale non si possa fare oggi con 27 Paesi, cioè quella lì io la presento con forti perplessità. Io penso che se si voleva fare qualcosa di simile avremmo dovuto individuare 10 Paesi massimo con cui fare questo salto politico istituzionale, cioè fare una moneta, fare uno Stato, ma questo non lo vogliono fare. I tedeschi non lo vogliono fare, gli olandesi non lo vogliono fare, non ci pensano per niente. Quindi questo sarà un dato di realtà da prendere in considerazione più seriamente. Cioè ci vogliamo mettere qui ad aspettare per altri 15-20 anni che Germania forse cambia l'opinione pubblica? Cosa che non sta avvenendo, perché anzi la Germania sta diventando sempre meno europeista, sempre meno disposta ad accettare forme di solidarietà? Perché i tedeschi sono dei pazzi, pazzi, mistificati peggio di noi, hanno un dibattito politico totalmente assurdo in cui pensano che il problema sia il fatto che gli italiani spendono troppo e non che il governo tedesco fa austerità da 20 anni creando molti problemi internamente. Quindi non mi sembra un'opzione possibile a breve, a meno che appunto non succedano cose catastrofiche. L'altra opzione è appunto quella dell'uscita. Ora, qui chiaramente facciamo analisi teoriche. Io mi rendo conto che l'uscita non è che sia un gioco. Nell'articolo lo spiego. Io penso che ad oggi l'uscita dall'euro sia la cosa più vicina alla rivoluzione che uno possa immaginare. Per cui è una cosa molto rischiosa, molto difficile, che va preparata molto molto a fondo, molto seriamente e vadano tentate tutte le alternative prima di arrivare a questo punto. Ma un paese maturo come il nostro, o meglio come dovrebbe essere il nostro, dovrebbe alla fine anche prendere in considerazione questa opzione. Se non si vuole fare un salto politico, quindi se si vuole rimanere in questo ibrido istituzionale assurdo, se inoltre le classi politiche si rendono alla fine complici della terza guerra mondiale, beh allora un'opzione per ritornare ad una forma di maggiore, relativa maggiore autonomia della politica in Italia, io la prenderei più seriamente in considerazione. Non come se fosse una bestemmia, ma come se fosse una delle vie praticabili. Ecco un ritorno ad un idealismo realista che farebbe tanto bene al nostro paese, che ormai è priva anche di visione, cioè non abbiamo visione, abbiamo solo questa mistificazione dell'elite, che non è vera visione, è solo appunto grande nebbia purtroppo spinta dai peggiori interessi economici. La terza opzione che poi ho espresso è una modifica dell'assetto monetario europeo sull'esempio che sul modello che Keynes aveva presentato a Bretton Woods, quindi l'euro sostanzialmente non sarebbe una vera moneta, si ritornerebbe alla lira, al marco, al franco, ma l'euro sarebbe un modo per regolare i tassi, per regolare i pagamenti internazionali in modo tale che ci sia una tendenza all'equilibrio dei conti con l'estero e a una piena occupazione internamente. Questo però vorrebbe dire che comunque la Germania abbandonasse le sue politiche di surplus commerciale, di deflazione salariale interna e di austerità che non credo sia molto disposta ad accettare, data appunto la sua forte ideologia ordo-liberale che è ancora sostanzialmente l'unica ideologia in Germania, mi verrebbe da dire che due sono le ideologie tollerate in Germania dopo la seconda guerra mondiale, l'ordoliberalismo, quindi questa ideologia contabilistica e ragionieristica e poi la difesa senza alcuna condizione, senza alcun realismo delle politiche di Israele. Ed oggi la Germania appunto fa entrambe le cose in maniera molto radicale. Senti, per concludere ti riporto la domanda che ci fa Giuliano Marrucci dalla regia, anche perché lui è l'unico vero economista qui a Ottolina TV, che ti voleva chiedere, allora è vero che l'euro è una gabbia, ma qualsiasi moneta per un paese debole come l'Italia è una gabbia se non si cambia radicalmente il ruolo della banca centrale, che deve tornare a essere uno strumento delle politiche del governo e tornare ad essere prestatore di ultima istanza. Che però è una cosa che appunto le nostre classi dirigenti, che fanno parte o ambiscono a far parte della grande finanza internazionale, non possono accettare. Quindi ti chiede, secondo te che tipo di blocco sociale è necessario costruire affinché un eventuale superamento dell'euro non significhi passare dall'essere in balia di Bruxelles ad essere in balia dei fondi predatori? Sono assolutamente d'accordo con l'analisi e anche col problema identificato. Io uso questa espressione, cioè il popolo della domanda interna, il popolo della domanda interna, cioè quelle persone che vivono, quegli italiani che vivono di domanda degli italiani, cioè di una certa comunità economica. Su questo penso sia questo il blocco sociale trasversale che dobbiamo aggregare. Quindi non solo i ceti popolari, i lavoratori chiaramente, che vivono chiaramente di domanda interna, cioè vivono di salari di un'impresa che è situata in Italia, ma anche quella parte del mondo imprenditoriale che, come ho detto prima, è stata danneggiata e che non è nei flussi. Quella parte di mondo imprenditoriale che non vive nei flussi, che non vive di grandi operazioni della finanza, che non vive di... Ora non posso fare nomi perché insomma, però capiamo, in Italia non ci sono molti capitalisti, purtroppo, come diceva Granci, cioè uno dei nostri problemi è la scarsa qualità del capitalismo e dei capitalisti. Però ecco, se uno pensa ai grandi capitalisti italiani, dei nomi ci vengono in mente. Ecco, non quelli, ma quella parte di imprese medio-piccole, magari del meridione, ma anche alcune parti del nord Italia che sono state appunto danneggiate dall'austerità, dalla riduzione dei salari, perché chiaramente c'è stato un patto scelerato nel capitale italiano, cioè hanno rinunciato alla crescita, quindi hanno rinunciato anche a una parte di profitti, di tasso di profitti, ma hanno aumentato il potere, cioè hanno aumentato la quota di profitti e di rendite sul totale del reddito. Quindi c'è stato veramente uno scambio folle da un certo punto di vista, perché si è rinunciato alla crescita per avere più potere relativo. Ecco, dobbiamo parlare a tutti quegli altri, a quelli che ci hanno rimesso. Poi, come dire, sono delle idee che bisogna fare un passo alla volta nella politica. Cioè, sicuramente questa riappropriazione della politica monetaria, che deve essere disegnata in modo tale che non crei casini, che non crei appunto veramente crisi monetarie assurde, bisogna essere molto, su questo, fermi i scientifici proprio per non andare per fratte, come si dice a Roma, ma sicuramente va fatto. Questa cosa è impossibile all'interno dell'Europa. Quindi se noi arriviamo al punto che è impossibile all'interno dell'Europa, allora dobbiamo già volgere lo sguardo altrove. Ecco, questo è questo realismo ideale o idealismo realista che come popolo dovremmo fare, questo salto, che sarebbe una grande maturazione per noi, veramente una grande maturazione. Purtroppo l'Italia ha un problema col proprio destino da sempre, direi, cioè non lo so, da Dante che ne parla di questo, no? Cioè, un'incapacità di pensarsi popolo, di pensarsi nazione, sempre questo senso di minorità che gli altri paesi europei hanno voluto e hanno tutto l'interesse a mantenere, ma anche le nostre classi dirigenti sostanzialmente sostengono. Ci sarebbe tante cose da dire, cioè noi abbiamo anche uno Stato, una forma dello Stato che è assolutamente inadatta a questi grandi cambiamenti, a queste rivoluzioni, in cui c'è un partito della burocrazia, un partito delle istituzioni che governa indirettamente questo paese, aggirando il Parlamento, aggirando il governo. Insomma, Juncker ha fatto delle dichiarazioni allucinanti nei giorni passati di quanto i colloqui con Napolitano e Mattarella siano stati importanti per lui come commissario europeo quando aveva dei vissili col primo ministro italiano, cioè giusto per fare un esempio. Quindi dobbiamo fare un lungo processo di liberazione, un lungo processo di liberazione e questo oramai non è solo una questione monetaria, è una questione di sopravvivenza, è una questione che ha a che fare con la pace, con il riconoscimento di nazioni libere e sovrane, quindi è una sfida veramente esistenziale. Quindi sono fiducioso io che comunque questo salto sia nelle corde. Se riuscissimo a dare rappresentanza a questo desiderio di cambiamento, rappresentanza seria e a creare questa coscienza collettiva, come giustamente è stato detto, cioè creando anche un blocco sociale di interesse, beh insomma nel giro di poco si potrebbe fare qualcosa, si potrebbe incominciare un processo di cambiamento. Assolutamente, noi siamo assolutamente d'accordo e siamo anche noi assolutamente fiduciosi. Gabri, se a te va bene, io rimanderei appunto la discussione anche sull'articolo scritto oggi sul fatto quotidiano che è troppo interessante per affrontarlo diciamo in pochi minuti, è un articolo che consiglio a tutti di leggere in cui critichi le politiche della banca centrale nel tentativo di diminuire l'inflazione, insomma delle politiche che di fatto hanno prodotto un enorme sussidio pubblico al settore bancario e che ben si ricollega a quello che dicevamo. Per il momento quindi ti ringrazio Gabriele e spero che avremo altre occasioni di confrontarci, magari anche con Giuliano presente. Io ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Grazie, alla prossima.